Ieri battuta d'arresto per la Juventus Under-23 che ha perso 1-0 contro l'Arzachena, comune Sardo in provincia di Olbia. Una partita che è stata molto viva nel primo tempo con la Juventus Under-23 che ha creato delle occasioni da gol, ha preso se non sbaglio anche una traversa su deviazione del portiere e tante altre occasioni, diversi tiri in porta, molte iniziative prevalentemente individuali e questo va sottolineato. Poi è arrivato il gol dell'Arzachena su calcio d'angolo nel secondo tempo e non c'è stata praticamente nessuna reazione da parte della Juventus. Anzi, nel primo tempo c'è stato il gol dell'Arzachena, mi correggo, non c'è stata nessuna reazione da parte della Juventus nel secondo tempo poi, quando la partita era ancora aperta e si poteva sicuramente raddrizzare il tempo ci sarebbe stato. Da questo punto di vista c'è stato, non so se un calo fisico o un calo mentale, magari una difficoltà ad avere le idee chiare su come impostare l'azione. Io infatti volevo aggiungere questo, insomma la Juventus Under-23 in questo momento dopo sei partite ha sette punti, dico bene, o forse sono già sette le partite, comunque ha sette punti in questo momento nel suo campionato, nel campionato Serie C nel Girone A e questa è stata quindi una battuta d'arresto. Si deve sicuramente continuare a recuperare, a riprendere, diciamo, a fare punti. Queste sconfitte, anche se esterne, vanno evitate, ma soprattutto va evitata questa difficoltà nel gioco. Allora io volevo dire questo, secondo me bisogna utilizzare degli accorgimenti tattici, cioè il problema vero della Juventus Under-23 in questo momento, se guardiamo a come affronta le partite, è un problema tattico. Quando si arriva a ridosso dell'area di rigore ci sono troppe iniziative individuali, ci sono pochi passaggi, secondo me. Ci sono delle situazioni in cui il giocatore riceve palla, magari, non so, Pereira o Mavididi, che sono, diciamo, tra i più talentuosi, ricevono palla a ridosso dell'area di rigore, hanno comunque la difesa schierata davanti, tentano il dribbling e il tiro. Non è una cosa che può funzionare, secondo me, in Serie C. C'è bisogno di fare azioni un po' più costruite, più manovrate, più ragionate, palla a terra, passaggi semplici, perché l'estro può andar bene sulla singola giocata in alcune situazioni, soprattutto, magari, quando la difesa è più aperta. Altrimenti bisogna cercare di fare anche un pochino di possesso, senza esagerare, ovviamente, perché comunque siamo in Serie C, ma cercare di costruire un'azione, di fare un'azione più ragionata. Andare semplicemente al tiro, un po' così, come capita, soprattutto da fuori area, non può essere assolutamente una mossa vincente, secondo me. Questo è quello che mi viene da dire, avendo visto un pochino qualche partita, più di qualche partita, fino adesso, appunto, della Juventus Thunder 23. C'è rammarico, sicuramente, per questa sconfitta, non tantissimo comunque, perché, ripeto, è una partita fuori casa, era forse la più lontana da casa fatta finora, perché in Sardegna, però, al di là di tutto, non bisogna cercare neanche alibi e giustificazioni. Quindi è una sconfitta e va presa come tale, bisogna evitare che ce ne siano altre di questo tipo. C'è stato, tra l'altro, l'esordio, anche esordio, quindi, sfortunato, del Prete, il nuovo acquisto della Juventus Thunder 23, difensore giocato a destra, non terzino fondamentalmente, difensore prevalentemente destro, che, appunto, non è stato felice questo esordio e non è stato neanche tanto utile, tra virgolette, nel senso che sicuramente ha fatto la sua ottima partita, ma sul corner, insomma, non è stato neanche lui, ci ha dato quel qualcosa in più per evitare di prendere, poi, appunto, il gol dell'Arzachena. Niente, speriamo che ci sia, quindi, un miglioramento della situazione in generale, maggiore sicurezza della Juventus Thunder 23 quando scende in campo, perché ogni volta che gioca non sappiamo mai che tipo di partita andrà a fare. Ci sono poi state partite che ha perso 4-0, partite che ha vinto 4-0, partite che ha vinto di misura, pareggi, sconfitte, insomma, è un po' come capita. Bisogna trovare, invece, una linea ben precisa. Ci affidiamo a Mr. Zironelli, che saprà sicuramente cosa fare, e a tutto il suo staff, e speriamo di poter commentare presto delle vittorie. Torna giovedì in campo la Juventus Thunder 23, ma comunque continuate a seguirmi per i prossimi video e sempre Forza Juve!